Come promesso, ci stiamo avvicinando al monumento dedicato alle persone uccise durante la guerra della Corea. Guarda che bello questo monumento. Guarda un pochettino di fretta perché siamo con il tour. Il tour è bello perché vi è tante cose, però sei limitato ai tempi. E quindi ci dobbiamo adeguare. Poi c'è anche il muro, tutte le vittime dietro. Guarda un'altra roba come ho messo qui. Guardate. In maniera americana. Qui c'è questo. Qui c'è questo mio, no? Guardate. Qui c'è il monumento. Come il muro qui a fianco. E le persone. Ricordatevi per sempre. Ok ragazzi, questo è tutto. Poi andremo a vedere altre cose qui a uscito. A dopo. Dimenticavo, prima di chiudere, volevo mostrarvi questa scritta. Freedom is not free. La libertà non è libera. Praticamente si paga. Ognuno delle vittime per fare questa cosa. Per fare quella vera libertà. Se ne è un'annazione. Il portalo è morti. 54.000 persone. Cosa ci si trova? Non si può vedere perché c'è la luce di fronte. spero che la scuola si veda bene questo è tutto e ci si veda